Non lasciamoci rubare l'amore per la scuola. È stato questo l'incoraggiamento di Papa Francesco all'incontro con studenti, famiglie ed educatori italiani che in oltre 300.000 sabato pomeriggio hanno affollato Piazza San Pietro, Via della Conciliazione e le vie limitrofe. Il Papa ha voluto salutarli percorrendo con la Papa Mobile tutta Via della Conciliazione. Al mondo della scuola italiana, chiamato in Piazza San Pietro dalla Conferenza Episcopale Italiana, Francesco ha spiegato in tre punti perché ama la scuola. Prima di tutto perché a sei anni ha trovato una maestra ha detto che mi ha insegnato ad amarla, ad aprire la mente e il cuore alla realtà, ad imparare, ad imparare. Perché se un insegnante non è aperto a imparare non è un buon insegnante e non è nemmeno interessante. I ragazzi capiscono, i ragazzi hanno fiuto e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto, incompiuto, che cercano un di più e così contagiano questo atteggiamento agli studenti. Amo la scuola, ha proseguito il Papa, perché è un luogo d'incontro e noi abbiamo bisogno di questa cultura dell'incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. Per educare un figlio, ha ricordato citando un proverbio africano, ci vuole un villaggio. E poi, ha concluso il pontefice, amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Insieme questi elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad amare la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa amare la vita e ci apre alla pienezza della vita.